Noi italiani siamo amatissimi e in modo particolare noi siciliani. Io adesso ho tantissimi, i miei social scoppiano, ricevo commenti da tutto il mondo veramente, dall'America del Nord, dall'America del Sud, dall'Australia, anche dall'Africa, Irlanda, Spagna, i siciliani nel mondo siamo tantissimi. Ricevo dei commenti che sono veramente, mi toccano, mi emozionano perché sono veri, sono sinceri, sono di chi si riconosce. Un'altra prerogativa di questa serie è la lingua. Pensa che va in 130 paesi in questo momento al mondo ma l'unica lingua che non è doppiata è la nostra e mi piace definire la lingua, la lingua siciliana. Noi siamo sottotitolati, io e Lucia Sardo e Roberto Arrigano e anche Eugenio nelle sue parti in siciliano in tutto il mondo e dicono questa è la lingua siciliana vera. Questo non è lo stereotipo che è stato proposto. Noi ci riconosciamo, mi ricordi mio padre, mi ricordi mio nonno, mi ricordi la mia storia, mi ricordi la mia terra. La Sicilia è molto amata in America, molto e basta vedere la fiction, la serie per capire con quanta cura i colori, la nostra terra. Quello che alcuni criticano, devo dire pochissimi, ma anche aggiungo per fortuna, che dicono ma questa Sicilia non esiste più, questa è stereotipata. E io dico sì è vero, io sono siciliano, questa Sicilia non esiste più, ma questa Sicilia esiste ancora, esiste ancora in sacche ben precise della nostra terra. Io personalmente conosco gente che non va a mare da 50 anni, conosco gente, io vivo a Balestrata ma il mio vicino di casa, contadino, dice non vado a parere da 30 anni. Ci sono modi di attraversare la propria vita che restano fortemente legati alla tradizione. E la nostra terra, la nostra cultura, la nostra lingua è veramente una lingua raffinatissima, è di antichissima cultura. Questo arriva nei nostri gesti, nei nostri sguardi, nei suoni che noi mettiamo nelle cose e sono apprezzati. Se non l'assante come faccio a sapere se è buono? Anzi, direi tu, vedi questo, chissù, vedi, è un po' assate, capito?